Buonasera da FMLTG, approfondimento a cura di Federanziani. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha presentato il rapporto nazionale sull'uso dei farmaci. Vediamo il servizio di Francesco Marinelli. Lo stato di salute della popolazione italiana è rimasto sostanzialmente costante negli ultimi due anni. Nel 2012 gli italiani hanno acquistato circa 2 miliardi di medicinali, lo 0,4% in meno rispetto al 2011, a fronte di una spesa farmaceutica nazionale di più di 25 miliardi di euro, circa 450 euro pro capite. Questi i dati principali del rapporto 2012 presentati oggi dall'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, alla presenza del Ministro della Sanità Beatrice Lorenzin. Nonostante ci sia un aumento dell'uso dei farmaci, la spesa invece farmaceutica è rimasta sotto controllo. Questo per vari motivi, da una parte perché è aumentata l'appropriatezza delle prescrizioni, dall'altra parte perché c'è stata un'immissione sul mercato di brevetti scaduti e anche c'è stato un aumento degli generici. C'è ancora però una forte dismogeneità tra regioni e regioni e quindi abbiamo alcuni ambiti territoriali in cui si consumano più farmaci rispetto alle fasce di età di popolazione, ovviamente a parità di dati. Questo significa che su queste regioni bisogna ancora lavorare sull'appropriatezza delle prescrizioni. Nel 2012 i cittadini hanno speso per i farmaci circa 8 milioni di euro, l'1,5% in meno rispetto all'anno precedente. Aumenta però la spesa delle strutture sanitarie pubbliche, il 13% circa. In testa alla classifica delle prescrizioni ci sono i medicinali per il sistema cardiovascolare, per consumo e spesa pubblica, seguiti da quelli per l'apparato gastrointestinale per il sangue. Rispetto al 2011 diminuiscono del 6% le dosi giornaliere degli antibiotici, mentre aumenta del 4,5% l'assunzione di antidepressivi. Rimane stabile anche il consumo di genere, la prevalenza si registra nelle donne con il 65%. Il dato più importante è quello che il 64% dei farmaci è utilizzato dagli anziani e che dobbiamo assolutamente cercare nel modo più opportuno di far sì che gli anziani entrino negli studi clinici controllati e che siano sempre più studiati, perché è non solo la categoria che più lo utilizza, ma anche la categoria più debole e quindi a questa dobbiamo avere assolutamente una grande attenzione. Ogni 10 minuti una persona perde la memoria. Per la cura dell'Alzheimer servono maggiori investimenti per diagnosi precoci e assistenza. Un'epidemia mondiale di demenza che secondo gli studiosi vedrà il numero di pazienti triplicare entro il 2050. È la drammatica previsione del rapporto mondiale Alzheimer 2013 in base alle stime sull'invecchiamento della popolazione e l'incidenza di questa malattia. In Italia fra 30 anni più di 3 milioni di persone avranno bisogno di cure e di assistenza e nel mondo il 13% degli over 60 ha bisogno di assistenza a lungo termine. Attualmente il costo globale per il trattamento della demenza supera i 600 miliardi di dollari, l'1% circa del PIL mondiale. Cifre destinate ad aumentare in base alle stime degli esperti, che prevedono a livello mondiale un aumento da 101 a 277 milioni di anziani colpiti dall'Alzheimer e la progressione della malattia anche in giovane età. Nel 10% dei casi le forme di demenza iniziano prima dei 65 anni e nel 43% dei casi la diagnosi avviene solo quando la malattia è già in uno stadio molto avanzato o grave. La Federazione Alzheimer Italia ha pubblicato un viaggio per prendersi cura, analisi dell'assistenza a lungo termine per la demenza, per fare il punto sul trattamento di questa malattia purtroppo sottostimata anche dai amministratori. I servizi di assistenza sono rivolti principalmente a persone affette da demenza e l'80% degli anziani nelle case di riposo convive con questa malattia. Dal rapporto emerge la necessità di finanziamenti 10 volte superiori per prevenzione, trattamento e assistenza dell'Alzheimer. Con l'invecchiamento progressivo della popolazione la demenza rappresenta una priorità nell'agenda di politica sanitaria con investimenti su assistenza continua e nuove soluzioni terapeutiche. Visite gratuite per prevenire l'artrosi L'artrosi rappresenta la prima causa di disabilità degli anziani ma non risparmia neanche i giovani. Sono 4 milioni le persone che ne soffrono in Italia. Nella maggior parte dei casi l'insorgenza è causata da una serie di fattori a partire da una predisposizione genetica a cui si accompagnano sollecitazioni ambientali, meccaniche, obesità, malformazioni e traumi di diverso grado. Secondo le stime dell'Istat l'artrosi colpisce 640.000 persone in Lombardia, 360.000 nel Lazio, 320.000 in Veneto, 280.000 in Emilia-Romagna. Un problema che accomuna tante persone è che ha spinto il Centro Nazionale Artrosi di Monza ad organizzare il 2 ottobre la prima giornata nazionale dell'artrosi. A partire da oggi sarà possibile prenotare una visita gratuita con uno degli specialisti del centro e richiedere informazioni. L'artrosi si può curare in diversi modi. Prima di un intervento chirurgico, spiegano gli esperti, si può fare uso di cellule staminali attraverso procedure mini-invasive, applicare gel contenenti farmaci specifici e seguire una dieta alimentare. Grazie per l'attenzione. Femme Litigi torna domani. Buona serata.